Giuseppe Arnone ha indetto una conferenza stampa per focalizzare fondamentalmente due punti. Andiamo con ordine. Innanzitutto il caso di Marco, le accuse mosse contro di lei, lei come si difende? Io sono un uomo politico, sono candidato alle elezioni a rappresentare la città di Agrigento e allora innanzi ad accuse come quelle che mi vengono mosse ho la seguente alternativa. O mi ritiro a vita privata e mi difendo privatamente e segretamente o spiego all'opinione pubblica nel più ampio contraddittorio possibile rispondendo a tutte le domande che mi fanno le ragioni della mia assoluta innocenza e totale inconsistenza di questa accusa che oggi la procura di Agrigento mi sta muovendo. Ovviamente io non penso che una vicenda giudiziaria così insensata ancora insensata quanto lo era quella mossa a me da Miceli di far parte dell'associazione a delinguere assieme alla dottoressa Fiorentini, l'insensatezza è abbastanza similare, possa interferire con le scelte elettorali degli agrigentini, con la democrazia agrigentina. Per cui ho fatto la scelta di chiamare i giornalisti e fornire ogni chiarimento. Franco Castaldo, Gian Gioffesi Morici, Elio Di Bella, i giornalisti più critici di questo mondo contro di me possono venire, registreremo l'intera conferenza stampa e la manderemo in onda tagliando solo le parti che riguardano la privacy dei figli della signora. Poi diremo tutto in modo che gli agrigentini possano stare ben tranquilli che l'avvocato Arnone è quello che dice esattamente la signora in un verbale di un interrogatorio, un esame testimoniale durato dalle 10 e mezza del mattino alle 23 della notte su cui si fonda questa inchiesta assolutamente strambalata. La signora dichiara che l'avvocato Arnone ha tenuto con lei il seguente comportamento comunque in ultima analisi posso dire con tranquillità che l'avvocato Arnone è diventato come un padre per i miei figli, quindi uno che diventa come un padre per i suoi figli e io sono diventato come un padre per molti figli nella mia attività professionale di tutela soprattutto dei deboli e dei minori, non è una persona che fa le azioni che con molta fantasia mi vengono attribuite dalla Procura della Repubblica. Poiché devo difendermi? Con molto dispiacere devo dire che raccoglierò questi atti, la mia memoria difensiva, le prove e probabilmente diventeranno un libro dal titolo La Grande Bufala, ovvero la balla spaziale di Arnone che fa le estorsioni. Mi dispiace ma è il dovere che ho nei confronti degli agrigentini che mi onoro di rappresentare, di tutelare la mia immagine che è un'immagine positiva di agrigento. Sempre in questa conferenza stampa farà chiarezza a proposito delle tariffe idriche, addirittura lei ha dichiarato di voler invitare Nello Amel che nei giorni scorsi ha fatto delle dichiarazioni sulla stessa vicenda, ad un confronto, ad una profiga collaborazione fra di voi. Ma io ritengo Amel una persona su cui domani da sindaco potrò condare per una seria collaborazione. Purtroppo talvolta Nello viene a perdersi nella demagogia che lui crea. Ieri ha detto una cosa abbastanza al divertente. Arnone ha trovato uno sconosciuto comune, Valdarno, che ha tariffe più care di quelle che vengono praticate da agrigento. No, Nello. Arnone ha indicato lato Valdarno, di cui fa parte la città di Firenze, che ha tariffe ben più care e strutturate nello stesso modo di quelle di Girgendiacque. Avevo cercato anche le tariffe di Bologna, ma via internet non è stato facile accedervi. Però ho scoperto che a Bologna viene praticato il quotiente familiare. Quindi dico a Nello Amel, smettiamola di fare demagogia, lavoriamo assieme per proporre quello che avviene a Bologna, cioè che le tariffe vengono calmerate anche attraverso il numero dei figli per mezzo del quotiente familiare. Però bugio non è racconto. La verità è che la tariffa che stiamo andando ad approvare, ad agrigento, è di gran lunga inferiore alla tariffa che c'era prima e alla tariffa che oggi applica la città di Firenze.